Saluto da Mario Giuliaci, ancora acqua alta venerdì a Venezia su valori abbastanza notevoli, anche se non verranno raggiunti fortunatamente i valori eccezionali di due giorni fa. E questo per effetto di questa nuova perturbazione che giovedì si è affacciata sull'Italia, il cui vortici di bassa pressione adesso sul Golfo di Guascogna, domani si sposterà come vedete qui ad ovest della Corsica e da questa posizione tale vortice sospingerà forti venti di scirocco sull'Adriatico, pensate un po', venti di scirocco che raggiungeranno velocità tra i 90 e i 100 km all'ora, con valori così elevate dello scirocco ovviamente l'accumulo di acqua sull'Adriatico sarà notevole e da qui la nuova fase di alta marea di acqua alta purtroppo a Venezia. Anche il nostro modello fisico-matematico prevede un rosso valore intorno a 90 km all'ora sull'alto e medio Adriatico. Quanto sarà elevata la quarta? Verranno raggiunti alle 11.20 del giorno valori intorno a 145 cm, valori che sono piuttosto elevati e che non sono usuali nell'arco di un'annata. Poi la marea ancora proseguirà nei giorni successivi, l'alta marea quindi l'acqua alta su valore un po' più contenuti tra i 110 e i 125 cm. 145 cm di acqua alta cosa comportano per l'allagamento della città di Venezia e abbiamo un allagamento di circa il 60-70% della città. Quindi insomma domani ancora purtroppo c'è il timore che più della metà di Venezia possa essere sotto l'acqua alta. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.